per incitare questi atleti, forza signora Teresa, 10 km degli olivi, forza, giro unico ragazzi, il giro unico mi raccomando, mi raccomando, gestite le forze perché, hai ragione, fa ancora caldo, il percorso è ondulato, 160 metri di dislivello positivo ragazzi, gestite le forze, mi rivolgo ai ragazzi che per la prima volta si cimentano solo a 10 km, tolgo, ai vostri posti, via, buona gara ragazzi, buona gara, la 10 km degli olivi, è partita, è partita, mattinata, eccoli qui i nostri primi toccati giusto, forza, forza, chi è? Maria Teresa di Calcutta, gruppo di Giornino Tondo, buona gara a tutti ragazzi!